Mi chiamo Alessia Bernardis, vivo a Preone, sono dipendente statale, lavoro per il comune di Ravascletto, mi occupo sia della parte segreteria del comune che dell'ufficio turistico. Allora, la primissima volta ero neolaureata e sono stata come docente ai Cramars, però non è stato quello il colpo di fulmine. Il primo vero rapporto è stato come studente nel corso di operatore turistico e ha voluto dire tanto perché è stata poi la porta per il mio primo, a 30 anni suonati, impiego a tempo indeterminato, quindi mi ha svoltato la vita. Sono tanti, nel senso che comunque vengono dati degli strumenti. Intanto c'è una mentalità molto aperta e poi c'è un contatto umano, diciamo, quindi c'è questo rapporto. C'è la possibilità appunto di trovare nuove strade che magari uno neanche non sta cercando, però nel mentre scopre di poter, di voler fare. Quindi assolutamente sì, fate qualcosa con Cramars! Ma ti dico quello che dico nella realtà, quando qualcuno mi dice ma ho visto questa cosa o ci sarebbe sì sì, Sombra! Quindi direi che comunque trova la professionalità, la qualità, la disponibilità anche. Quindi sì, sono tanti buoni motivi per fare qualsiasi cosa, che sia anche solo, non so, penso ai Novalp, seguire uno degli interventi o fare un corso come ho fatto io di tante, tante ore, però che mi ha portato appunto a un lavoro nella vita reale che poi si è evoluto, però comunque l'ambito è rimasto quello e mi è servì e mi continua a servire. La prima parola in assoluto è competenza, seguita appunto da professionalità, qualità e anche l'empatia. Non ho mai avuto grandi rapporti, però secondo me sono un po' ripetitiva. L'elemento umano e probabilmente anche il legame col territorio. Sia all'interno, quindi a cercare le peculiarità di mantenerle, ma innovarle, sia verso l'esterno, quindi una ricerca di progetti validi che possono essere riportati qua o di creare progetti che vadano oltre i confini, parliamo della Carnia, ma più in generale, insomma, dei nostri paesi che possano portare comunque uno scambio, un beneficio. I Carnia Greeters sono nati con una call a cui hanno risposto persone come me che bene o male sono unite dall'amore per il territorio e l'idea era proprio quella di accogliere persone sul territorio ma come se fossero amici. Quindi fargli vedere le parti non più nascoste, più vere, quelli che poi sono stati definiti i luoghi del cuore, che poteva essere anche condividere un thai in osteria. Sì, il senso era proprio, era, è, perché continua ad essere, questa espressione del territorio di accoglienza in una forma che non fosse turistica ma fosse proprio di accoglienza, il vero senso dell'accoglienza. Siamo partiti in tanti, ci sono state delle modifiche poi nel senso che qualcuno per strada l'abbiamo perso e quindi è rimasto un gruppo però che ha fatto anche altre cose assieme, ci sono stati viaggi, ci sono state pizze. Appunto l'esperienza dei Carnia Greeters è stata utile per l'avvio dei Balkan Greeters e quindi c'è stato questo scambio fra i futuri Greeters di Montenegro e Serbia che prima sono venuti qua a vedere un po' qual era la nostra realtà, a capire come, come era il nostro territorio e come lo spiegavamo, insomma, che poi non è neanche spiegare, è proprio portarli dentro, però l'unico modo per fare vedere cosa facevamo era accoglierli e questo è stato fatto e quindi li abbiamo anche accompagnati qua, poi c'erano delle sezioni in aula diciamo dove venivano dati i punti fermi, la parte burocratica, perché loro volevano costituirsi. La parte migliore è stata andare in un viaggio impegnativo ma che mi resterà a vita in Serbia e Montenegro e siamo stati accolti da loro perché poi alla fine la parte finale di ogni incontro era provare a fare i Greeters a casa loro, no? E facevamo noi da cavie per vedere magari, digli ma guarda qui potresti raccontarla così, era stato meraviglioso, era una compagnia meravigliosa, ne abbiamo una. È stata una delle esperienze di quelle che rimangono nella vita proprio, uno perché ho visto posti che spero di poter rivedere perché in cinque giorni li abbiamo proprio attraversati, è stata una corsa, però li ho visti assieme alle persone del posto, che è proprio il senso dei Greeters, peraltro ragazzi giovani, tanti ragazzi giovani che volevano intraprendere questo progetto in posti che avevano comunque una storia recente abbastanza impegnativa e quindi c'era questa voglia di fare, di creare, di esserci, sì, c'era tutta un'altra forza proprio. Penso che non mi ricapiterà più di trovare delle mucche al pascolo in una galleria non illuminata mentre si sta andando in macchina, ma mai nella vita, ma mai neanche l'avrei pensato che potesse succedere. Non è legato proprio ai Cramarts, però è legato a questa esperienza che... e lì era normale, era quello, no? Quindi scoprire l'eccezionale nella normalità è una cosa che è... E negli anni a venire spero che continua e cresca, io ho visto sempre un andamento in crescita, quindi spero che mantenga e migliori sempre nell'innovazione per questi territori che da un lato stanno diventando un po' vecchi, ma che potrebbero... potenzialmente hanno grandi cose da offrire anche ai giovani, quindi da trovargli delle strade perché possano restare, perché possano fare qualcosa di bello per il territorio. Come slogan? Forse un po' banale, direi oltre i confini, ancora meglio in inglese, beyond the borders. Nel senso, uno, di mantenere comunque la fede per i Cramarts come figura originale che andavano oltre i confini. L'altro è, appunto, sempre pensando anche ai Carnia, no ai Carnia Gritters, ma ai Balkan Gritters, questi progetti che vanno sempre, partendo da un territorio così piccolo, oltre i confini nazionali, oltre i confini nostri, ecco. E l'altro, ancora, è proprio l'andare oltre i confini a livello di relazioni personali, a livello di non avere limiti, di non porsi limiti in quello che può essere, di trovare le soluzioni, per creare qualcosa di nuovo, per imparare qualcosa di nuovo. Una cosa sono tutte le firme che, ecco, tutte le firme che si lasciano quando si fa un corso impegnativo con i Cramarts. Ma infatti quando si protege a qualsiasi progetto, firmi qua, per favore. Un'altra cosa è sempre, alcune cose sono legate ai momenti del corso, perché comunque si era creato un bellissimo gruppo, proprio bello, con alcuni ancora ci si sente, ci si in guardia, e di continuare a prendervi cura del territorio, soprattutto per i giovani, trovare, continuare a cercare nuove possibilità che vengano da fuori e da importare o che vi inventate. Sì, perché ce ne sono pochi e la mia paura è che vadano via se qua non trovano le condizioni per restare, quindi creare condizioni perché possano restare o perché gente da fuori possa venire. Devo firmare? Beh, ovvio, adesso puoi firmare.